Ciao ragazzi e bentornati, buon martedì e soprattutto buon 2018. Lo so, mi sono lasciato attendere un po' troppo, mi dispiace, ma adesso rieccomi qui, pronto, bello carico e andremo avanti, spediti fino a quest'estate con tantissimi nuovi video, tantissime novità, ma intanto per inaugurare questa nuova stagione, ecco che voglio lanciare il primo giveaway del 2018. Questo giveaway è in collaborazione con EMP Italia. EMP Italia è ormai entrata prepotentemente nelle nostre vite, io ormai ci compro continuamente, hanno tantissimi pop esclusivi, in tantissimi mi richiedete sempre codici sconto e io sono sempre lieto di passarveli, trovate sempre codici sconto EMP attivi sotto i miei ultimi video relativi agli unboxing di EMP e come vi dicevo oggi facciamo un bel giveaway. EMP mi ha dato la possibilità di regalare il Backstage Club, quindi le spedizioni gratuite per un anno illimitate a uno di voi. Quindi ragazzi credo sia un gran bel premio e per potervelo aggiudicare dovete fare una cosa semplicissima, andare sul sito EMP e registrarvi alla newsletter del sito qualora non l'aveste già fatto, e poi venire sotto il mio video, sotto questo video e commentare dicendomi perché dovrei regalare a voi questo Backstage Club. La risposta che più mi farà sorridere, la risposta più interessante e più divertente sarà quella che sceglierò e che si aggiudicherà il Backstage Club, che vi ricordo ancora una volta sono le spedizioni gratuite senza limiti per un anno dal sito EMP. E addirittura con ogni ordine potrete selezionare nel carrello un omaggio. E quindi ragazzi mi raccomando dateci dentro, date sfogo alla vostra creatività, commentate sotto questo video. Domenica prossima io annuncerò il vincitore prima su Instagram, quindi seguitemi su Instagram qualora non l'aveste ancora fatto. E poi lo annuncerò anche qui su YouTube, anche su Facebook, ma su YouTube lo annuncerò in questo stesso video, troverete il primo commento fissato in alto col nome del vincitore, che verrà contattato privatamente. Qualora non dovesse ricevere risposta, poi passerei a un'altra persona. Quindi ragazzi scatenatevi e in bocca al lupo. Ma adesso cominciamo con questo gigantesco haul di Harry Potter Funko, perché negli ultimi mesi mi sono davvero scatenato con il recuperare tantissimi Funko Pop e prodotti Funko in generale. E quindi adesso vi mostrerò questo gigantesco haul da oltre 250€ che ho accumulato in questi ultimi mesi. Cominciamo da queste che sono due Rock Candy, quella di Luna Lovegood e quella di Harry Potter. La serie è composta da cinque personaggi, Harry, Hermione, Ron, Luna e Bellatrix, ed è anche uscita per il New York Comic Con una versione di Luna col cappello a forma di leone. Io devo dirvi ragazzi che le ho acquistate, queste due d'impulso, sono molto carine, soprattutto quella di Luna, ma non sono sicuro di continuare ad acquistarle perché già acquisto tantissimi Pop e quindi non voglio cominciare anche questa nuova raccolta, anche perché mi piacciono sì, ma fino a un certo punto. Magari adesso vi mostro questa qui di Luna, che secondo me tra le due è quella molto più interessante e vi faccio vedere di cosa si tratta nello specifico. Ecco qui, sono sempre delle statuine in vinile, sono fatte molto molto bene, sono molto rifinite e hanno tutta un'altra qualità rispetto ai Funko Pop. In questo caso la nostra Luna tiene tra le mani il cavillo ed è davvero stampato benissimo, sia sul fronte che sul retro, ha i suoi occhialoni trasparenti e poi la sua classica posa che è la stessa del Funko Pop che è uscito per il San Diego Comic Con di quest'estate del 2017. Quindi io l'ho acquistata così un po' di pulso, c'è anche la basetta trasparente classica che si trova anche assieme ai Funko Pop e devo dirvi che è un prodotto molto valido, mi piace tantissimo e chi non collezionasse J-Pop magari potrebbe dedicarsi a questa serie qui che è altrettanto bella, ma ragazzi io resto fedele ai miei Funko Pop e quindi credo che non ne acquisterò più, però come sapete io dico una cosa e poi ne faccio sempre un'altra. Adesso andiamo avanti. Ma adesso passiamo a sei nuovi Funko Pop che ho recuperato dalle vecchie Wave. Chi mi segue da tanto tempo saprà che io inizialmente non volevo acquistare nessun Funko Pop di Harry Potter perché già collezionavo quelli del Trono di Spade che vedete alle mie spalle, ma poi mi sono lasciato prendere la mano, complice anche alla collaborazione di MP e adesso proprio tramite MP ho recuperato tutti quelli che mi mancavano. Colgo l'occasione per segnalarvi il codice sconto EMP12FUNCO che è attivo fino al 15 di gennaio e avrete 5€ di sconto su 30 di spesa. Il primo Pop che vi mostro è questo qui che mi ha fatto penare tantissimo e si tratta di Cedric Diggory. Io lo scorso Etna Comics lo avevo tra le mani, l'avevo visto in una bancarella e lo vendevano a qualcosa come 17€ e stupidamente non l'ho acquistato, ho acquistato Lucius Malfoy con la maschera da Mangiamorte e mi sono pentito amaramente perché poi è schizzato alle stelle e per recuperarlo ci ho messo davvero un bel po'. Dopo un paio di fregature su eBay finalmente sono riuscito a recuperarlo da un altro sito che sinceramente non ricordo come si chiami e questo sito lo aveva soli 30€ spedizioni incluse quindi sono riuscito a recuperare questo Cedric Diggory con bollino Underground Toys quindi l'ex bollino esclusive europeo e ragazzi finalmente eccolo qui la scatola è messa anche abbastanza bene se non nella parte superiore che è un po' macchiata ma questo Pop nonostante non mi faccia impazzire è l'unica versione di Cedric disponibile e quindi dovevo averla spero che nella successiva Wave che sicuramente, presumo, sarà dedicata a Harry Potter e il Calice di Fuoco anche se già in realtà alcuni personaggi sono arrivati di quel film spero ci sia una nuova versione anche di Cedric almeno me lo auguro ma adesso parliamo di 5 Funko Pop che invece ho recuperato tutti su EMP e si tratta del Funko di Bellatrix che cercavo da tantissimo tempo e che finalmente ho beccato appunto su EMP quello di Draco Malfoy che sembra diventato introvabile anche questo non si trova quasi più da nessuna parte e che ancora su EMP è invece disponibile poi ho recuperato anche Fred e George eccoli qui sono davvero molto molto carini questi la solita classica posa di Fred e George George con le due scatolette con la valigetta sempre dei Tiri Vispi Weasley questi sono praticamente uguali se non per quello che tengono in mano e alla fine questo che è uno dei pezzi che più mi è piaciuto quello di Neville che tiene tra le mani il suo Rospo Oscar e questo devo dire che mi ha sorpreso perché i dettagli del Rospo sono davvero molto molto belli molto interessanti mi piace tantissimo come è stato scolpito Neville e devo dire che è uno di quei pop che nella sua semplicità hanno davvero qualcosa hanno davvero una marcia in più quindi mi piace mi piace tantissimo e questi erano sei pop che dovevo recuperare dalle wave precedenti ma andiamo ancora avanti perché non è finita qui altri 4 Funko Pop ragazzi questa volta tutti provenienti dall'ultima wave di Harry Potter quella dedicata al prigioniero di Azkaban e questa volta ragazzi questo è un pezzo che quando l'ho visto su MP sono andato fuori di testa e l'ho ordinato nel giro di 3 secondi netti si tratta di Remus Lupin nella versione Lupo Vannaro esclusiva europea per MP come potete vedere dalla scatola c'è il bollino MP e sotto il classico bollino exclusive che ha sostituito questo qui di Underground Toys di recente ragazzi questo pop è una figata mi è piaciuto subito fin quando venne annunciato da Hot Topic e finalmente quando è arrivato qui da noi ci ha impiegato un bel po' ma sono andato davvero fuori di testa eccolo qui anche in questo caso ha la sua basetta che non tiro fuori ragazzi mi piace tantissimo è davvero molto molto simile al design del Lupo Vannaro che abbiamo visto nel film mi piacciono tantissimo questi occhietti da pop verdi e devo dire che è uno forse dei pop più azzeccati della wave dedicata al prigioniero di Azkaban nonostante siano tutti pop davvero molto molto belli e andando ancora avanti ho recuperato quello di Peter Minus che anche questo è stato abbastanza difficile da trovare perché andava fuori stock continuamente ma finalmente sono riuscito a prenderlo perché EMP per fortuna riassortisce alla velocità della luce e poi qui abbiamo anche Remus Lupin in versione professore normale con la sua cicatrice in faccia questi pop non li tiro fuori dalle scatole perché li conoscete già sono già in giro da un bel po' però mi faceva piacere farveli vedere e condividere con voi questi ultimi acquisti che avevo un po' messo da parte ultimamente prima della vacanza natalizia e infine ecco qui Ginny anche in questo caso un pop molto molto semplice Ginny con la classica divisa di Hogwarts con la bacchetta tra le mani se non ricordo male questa è proprio una foto ufficiale fatta durante le riprese del film c'è una foto di Ginny in questa posizione con la bacchetta in mano che era se non sbaglio parte delle foto proporzionali quindi in questo caso Ginny molto semplice ma mi piace mi piace parecchio mi piace anche il colore che hanno dato ai capelli alle sopracciglia che forse è leggermente più vivido rispetto a quello di Ron e dei fratelli Fred e George mi piace mi piace tantissimo anche questo ma non è ancora finita qui altri tre Funko Pop ma questa volta molto molto importanti sono i Funko Pop dei Comic Con del 2017 si tratta del Funko Pop di Luna con gli spettrocoli ragazzi questa versione di Luna l'ho tenuta sott'occhio tanto non volevo acquistarla sono sincero ma alla fine ho ceduto quando EMP l'ha resa nuovamente disponibile solo agli iscritti al Backstage Club quindi ragazzi un motivo in più per partecipare al giveaway mi raccomando perché alcune vendite sono limitate ai solo abbonati al Backstage Club e questa ne faceva parte ad esempio e di recente se non sbaglio anche Steve di Stranger Things quindi mi raccomando ragazzi secondo me a prescindere dal giveaway 19,90€ per un anno di spedizioni più gli omaggi in ogni ordine e più la possibilità di avere accesso a vendite esclusive di Funko Pop o di altro merchandise ragazzi io sinceramente sono felicissimo di averlo fatto l'anno scorso e lo rinnoverò anche quest'anno e ragazzi poi ho acquistato anche Gellert Grindelwald è il nostro bel Piton molliccio nei panni della nonna di Neville in questo caso la storia è un po' differente io li ho acquistati direttamente dall'America quando uscirono ho acquistato questo qui sul sito di Barnes & Noble perché era una loro esclusiva e l'ho pagato relativamente poco sui 25€ incluse le spedizioni quindi diciamo che mi è andata anche bene in questo caso e invece per Piton non è andata altrettanto bene perché l'ho acquistato da Hot Topic che tra spese di spedizione Dogana spedizione nuovamente a casa mia perché avevo condiviso l'acquisto con un'altra persona quindi ne avevamo acquistati due assieme per ammortizzare le spese mi è arrivato a costare circa 60€ ebbene ragazzi questo lo trovate adesso disponibile su EMP a circa 24,90€ se non ricordo male potete anche utilizzare il mio codice sconto per ammortizzare ancora la spesa EMP12Fanco e ragazzi io sono rimasto fregato non ho potuto acquistarlo nuovamente perché già lo avevo e avrei risparmiato oltre la metà dell'importo speso per questo e inizialmente EMP assieme a questo aveva anche disponibile Green The Valve come aveva disponibile di Anna Mormont per il Trono di Spade Jaga Nagar c'erano davvero tutti alcuni sono addirittura ancora disponibili quindi ragazzi qualora foste interessati alle esclusive dei Comic Con andate tranquillamente a spucciare su EMP perché c'è di tutto e ragazzi questi naturalmente sono i miei tre pop preferiti di quest'anno assieme anche al Lupo Mannaro in versione Lupin no Lupin in versione Lupo Mannaro adesso ci siamo ragazzi quindi questi sono i miei ultimi acquisti Funko Pop relativi al mondo di Harry Potter fatemi sapere voi cosa avete acquistato di recente quali dovete prendere quali state cercando io ormai mi sono messo in pari quindi non dovrei dover cercare altri pop almeno per qualche mese fin quando questa primavera usciranno i nuovi pop di Harry Potter è prevista una nuova wave e sono previsti anche altri due nuovi pop per la fine di questo mese ma di questo ne parleremo presto in un nuovo format che vedrete la prossima settimana o se riuscirò a montarlo anche alla fine di questa quindi ragazzi mi raccomando ricordatevi di partecipare al giveaway che faccio in collaborazione con EMP domenica prossima su Instagram e poi qui nel primo commento troverete il nome del vincitore mi raccomando commentate e ditemi perché dovrei scegliere voi e iscrivetevi alla newsletter di EMP che vi darà diritto anche a un 10% extra di sconto sul vostro primo acquisto a questo punto io scelgo la bacchetta di Sambuco oggi prendiamo questa qua per salutarvi e vi do prestissimo appuntamento con un nuovo video Lumos Maxima e vi do